siamo con coach Paolo Tofoli al termine di Tuscania Ottaviano vinta nettamente 3 a 0 troppo di vario tra le due squadre dimostra anche la classifica noi ai ragazzi gli avevo detto di fare una partita buona senza strafare limitando gli errori diciamo rispetto a noi magari di livello leggermente più basso però sempre noi dobbiamo avere rispetto sempre per tutte le squadre quindi giocare al massimo oggi abbiamo vinto facendo anche qualche erroretto in più che non dovevamo fare però ecco va bene va bene i tre punti e domenica si va ad Aversa impegnativa come trasferta si impegnativa perché Aversa sta giocando molto bene è una trasferta difficile noi dovremmo andare là per fare una grande partita solo per facendo una grande partita possiamo batterli indipendentemente dal risultato comunque siamo terzi nel girone domenica potremmo raggiungere Galatina che ha perso con Grottazzolina ma è molto difficilmente Galatina andrà a perdere a Lecce sì il derby Galatina Lecce difficile ancora Galatina può andare a riprendere Grottazzolina che gioca a Pineto anche se ormai Pineto è quarta matematicamente come noi siamo terzi matematicamente quindi non lo so fino all'ultimo noi giocheremo e poi vedremo insomma come andrà la regola al sismo e ci prepareremo per i play off ok grazie grazie a voi ciao ciao grazie a voi ciao 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 Grazie a tutti